ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono daniele marchese per chi non mi conoscesse ritorno sul canale o perlomeno a fare un altro video sul canale dopo quattro e lunghi anni forse qualcosa qualcosa anche in più niente ragazzi questo non è un video di questo che farò oggi non è un video di doppiaggio non è un video di imitazioni ovviamente un video di ritorno al canale diciamo di sì un video di ritorno mi raccomando ragazzi se non l'aveste ancora fatto di iscrivervi al canale attivare la campanellina per per vedere dei video futuri che caricherò ovviamente molto più costantemente con molta più coerenza ovviamente dei video molti più video settimanali quello che non ho fatto in questi quattro anni perché magari sono successe delle cose diciamo belle brutte ma ovviamente non sto qui ad annoiarvi ci mancherebbe mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessuna novità su di me sui miei video e quant'altro che dire ragazzi iscrivetevi al canale vi mando un grosso bacione mi raccomando ti aspetto al mio canale ci conto eh ciao 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 ciao